Avrebbero messo a segno una violenta rapina ad una gioielleria vasto in provincia di Chieti. E' quanto scoperto dagli agenti dalla scuola mobile di Foggia e del commissariato di Sansevero che hanno arrestato 4 dei 5 presunti autori. Si tratta dei sanseveresi Mario Spinelli di 20 anni, Nazaro Infante di 19, Luigi Gomeri di 23 e Carmine Ciavarella di 20 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini e dalle immagini nel servizio di videosorveglianza della gioielleria che ha registrato i tragici momenti della rapina, Il 17 novembre scorso Spinelli sarebbe entrato nella gioielleria Scaffetta di Vasto chiedendo alla titolare di visionare alcuni gioielli. Il giovane ha quindi puntato il coltello alla gola della signora scaraventando a terra la donna e anche la figlia intervenute in suo aiuto. Poco dopo nella gioielleria sono intervenuti i complici, tutti travisati, che hanno rubato gioielli per un valore complessivo di circa 5.000 euro. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di una utilitaria condotta da un quinto complice la cui targa è stata poi comunicata alla polizia da un testimone. Dalla targa gli investigatori sono risultati dal titolare dell'auto, Carmine Ciavarella, che ha iniziato a collaborare con la polizia raccontando i dettagli della rapina e indicando anche le generalità dei suoi complici. Dichiarazioni riscontrate attraverso anche le immagini della videosorveglianza.